Donna Paola Zancani non vuoi, adesso è di messa in discussione. No, perché Donna Paola datava le metodi per le mani di questo, no? Sì, che si insegnano il cuore. Le metodi sono vantaniche, però lei le attribuiva ad un tempietto, alle fondazioni che aveva trovato. E pensava che facessero parte di quel monumento. E l'ha ricostruito nelle stesse dimensioni, la cellula, e delle dimensioni di quel tempietto. Però poi dopo, le metodi sono state lavorate per i miei dati, dopo che le hanno montate, ne sono uscite altre, se sono quelle che stanno... E già Mario Napoli diceva, non queste, sempre quelle che stanno... E già Mario Napoli diceva che sono stati in mezzo, e adesso hanno fatto esaggi, il tempietto non è accaduto, ma è in un quarto secolo. Quindi le metodi non vanno... Quello ricostruito non è quello giusto. Mentre invece queste... Queste sì, ha partito una pietra... Certo, c'è un cibo. Questa sì, buono. Grazie.